Per la serie Le Mans di Centauri che stava uscendo in edicola abbiamo questo fine settimana l'uscita della nuova Ferrari 499 P vincitrice a Le Mans dello scorso anno se non avete 115 euro per comprare il modellino Luxmartin 1 a 43 questo modellino mi avviso è molto ben fatto è un'ottima alternativa e per 16 euro 99 una cosa che può far sempre comodo risparmiare qualche euro se siete collezionisti di altri modellini visto i prezzi che sono aumentati ultimamente è comunque una vettura molto ben fatta da parte di Centauri si vede anche bene la trama del carbonio all'interno del prototipo con il 3G cristallo non stampato e staccato veramente un buon modello che non può mancare nella vostra collezione se siete appassionati di endurance oltre che di Ferrari visto che è il prototipo che ha riportato il cavallino a vincere Le Mans nel centenario della corsa francese